La fiaccola è spenta ormai da un anno, era luglio 2017 quando iniziò la delicata quanto simbolica demolizione delle ciminiere, ma le operazioni di smantellamento della raffineria Tamoil sono in ritardo di almeno sei mesi sulla tabella di marcia imposta dall'autorizzazione ministeriale che detta le fasi della dismissione. Così dalla prossima settimana il gruppo di lavoro costituito in comune per sovraintendere queste fasi del leader ha deciso di imprimere un'accelerazione di arrivare alla demolizione dei serbatoi subito dopo l'estate. Si tratta di un'attività particolarmente delicata visto che i contenitori sono impregnati di idrocarburi, per questo l'amministrazione comunale ed in particolare l'assessore all'ambiente Alessia Manfredini ha chiesto che questa attività non fosse portata avanti durante i mesi estivi per evitare possibili problematiche relative a rumori o peggio ad emissioni odorose a discapito dai frequentatori delle canottieri. Dunque il cantiere che sarà gestito dalla società servizi logistici subentrata Tamoil e seguito dal personale ARPA, ATS e dai vigili del fuoco, oltre naturalmente dalla cabina di regia apposita, dovrebbe essere predisposto attorno a settembre o al più tardi ottobre. Il cronoprogramma sarà deciso appunto la settimana prossima e verrà poi divulgato durante la seduta pubblica dell'osservatorio Tamoil. In programma per il 4 luglio, il Salone dei Quadri del Comune.